Eccoci qua con Capitano Savona dopo un'impresa della sua Burlando che batte 3-2 un Bargagli che comunque si fa vedere, si dimostra l'altezza del girone ma la Burlando vince per 3-2 e ora volevamo passare la parola a lui. È stata una partita difficile, sapevamo che ci aspettava un match duro, devo dire che nei 90 minuti secondo il mio punto di vista mi è meritato l'unico nostro errore del primo tempo è stato quello di non segnare il secondo gol, abbiamo dispeso molte energie e nel secondo tempo abbiamo un po' calato il ritmo sono venuti fuori loro, hanno pareggiato e poi hanno fatto il nostro errore e poi ha fatto un bel gol Dani su Lidoro però a quel punto poi abbiamo reagito, abbiamo reagito alla grande e siamo riusciti a riportare il risultato da nostra parte e abbiamo dimostrato ancora di essere vivi. Dove pensi che può arrivare ora questo Burlando a 5 giornate dalla fine, come lo vedi questo campionato? Il nostro obiettivo è fare 15 punti arrivando poi all'ultima partita cercando di conquistare nello sconto diretto 3 punti, solo così poi la Burla potrà non avere impianti è ovvio che ci sono un po' di scontri diretti dall'altra parte che ci possono aiutare, un campionato lo stiamo vedendo imprevedibile quindi direi che tutto è ancora aperto. Perfetto, un'ultima cosa, dedica qualcuno questa vittoria in particolare? Lo dedico a mio zio, a mio zio Mimmo, sta lottando in un momento difficile, tutta questa vittoria assolutamente per lui e dico forza! Ok!